Sì, questo è il mio secondo anno con il MUNA i VR46 Racing Team, sono molto contento di stare un'altra stagione con loro. Sarà bello, questa livrea nuova mi piace tantissimo perché il nero rende la moto molto più aggressiva, quindi mi sembra più da competizione. Sono contento, dai, non vedo l'ora di iniziare. Questa stagione mi aspetto, dai, di cercare di essere tra i più veloci sempre, l'anno scorso secondo me abbiamo fatto un bel lavoro vincendo il titolo di migliore esordiente e quest'anno cercherò di essere allo stesso modo veloce, cercando di magari confermarmi più volte tra i primi 4-5 e il mio obiettivo è quello di lottare per una prima vittoria che è il mio sogno e cercherò di conquistarla. Sì, sarà una stagione molto lunga perché ci sono 21 gare, in più c'è anche la Sprint Race che è questo nuovo format che la MotoGP ha deciso di introdurre da quest'anno. Sarà strano, sicuramente i primi weekend dovremo un attimo prenderci la mano perché da tanti anni che corriamo con un modo delle tempistiche anche diverse durante il weekend quindi ci dovremo un attimo adattare, però sono sicuro che sarà molto interessante e penso che la Sprint Race sia un tipo di gara che comunque si può adattare abbastanza bene al mio stile di guida.